Buongiorno a tutti, benvenuti al consueto appuntamento del fine settimana, ma nonché anche fine mese di agosto, quindi ci lasciamo definitivamente alle spalle il mese estivo, gli ultimi scampoli di un mercato che è ancora nella penultima settimana in una fase festiva. Ovviamente ci accingiamo ad attraversare l'ultima parte, gli ultimi 4 mesi del 2019 che certamente non lasceranno il campo a sorpresa, infatti ovviamente ci sono diverse indicazioni che già pregresse nei mesi passati, nelle ultime settimane, in particolare resta sempre di moda tra gli investitori il seguire essere followers dei vari twitter di Trump, che nelle ultime giornate si è aggiunta anche la veridicità e la non veridicità dei vari twitter. Questo perché? Perché praticamente proprio nonostante che è aumentato ancora di più la complessità nella valutazione dei twitter di Trump, sia perché già in passato eravamo abituati a guardare i twitter che uno annullava l'altro, cioè il successivo annullava i precedenti, c'erano sempre delle visioni distorte, quindi come se sembrava che praticamente molti hanno indirizzato questa differenza come se non era la stessa persona fondamentalmente, tipo Mr. Jekyll e Mr. Hyde fondamentalmente. Ma la situazione è totalmente, è ultimamente, quindi è diventata ancora più difficile nella propria lettura, soprattutto perché proprio negli ultimi twitter, proprio questa settimana, Trump aveva dato indicazioni che uno dei suoi stretti collaboratori aveva avuto durante la notte un messaggio da parte di alcuni membri del governo molto vicini al presidente cinese, che volevano appunto dare, hanno dato indicazioni per un possibile ritorno, quindi a un accordo. In realtà però fondamentalmente intervistati la mattina dopo i vari esponenti cinesi, nessuno sapeva niente di questo twitter, quindi fondamentalmente si è volato per una non veridicità del twitter di Trump, quindi oltre al, quindi come bene, quindi da questa situazione è scaturita, che sarà ancora più difficile nel futuro andare ad analizzare con attenzione, quindi non solo guardare che cosa succede, ma anche se è veritiero oppure no quello che dice Trump, ma detto questo sapete che praticamente purtroppo i twitter hanno totalmente bypassato anche le più importanti notizie macroeconomiche, infatti ogni volta che c'è un twitter di Trump c'è sempre una movimentazione particolare, un aumento di volatilità tra non solo tra i vari mercati, non solo quindi tra il mercato delle valute, ma insomma che abbraccia un po' tutti i mercati, situazione che quindi praticamente non bisogna prendere sotto banco e poi saranno due mesi intensi dove sicuramente ci saranno ulteriori indicazioni arrivo da Londra, dove il 31 ottobre è l'ultima data, l'ultimo giorno in cui poi definitivamente si applicherà l'uscita appunto della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Ovviamente ultime indicazioni che poi è stata anche avvalata dalla regina Elisabetta dove praticamente fino al 15 ottobre è stato interrotto quindi tutti i vari lavori del Parlamento inglese. Ovviamente c'è stato un attacco frontale nei confronti soprattutto da parte soprattutto dei laboristi che praticamente non hanno accettato di buon grado la scelta di Boris Johnson poi quindi firmata e sottoscritta anche dalla regina Elisabetta. Bene, quindi non mancheranno quindi nei prossimi mesi ulteriori colpi di scena. E poi resta anche la politica italiana che sembrava appunto, vedete, sembrava un riavvicinamento, un conte bis, mentre invece poi le parole di Di Maio hanno ultimamente steso e fatto ripiombare Piazza Affari dopo una settimana quasi positiva, quindi hanno fatto ripiombare nuovamente Piazza Affari e al di sotto la parità. Ma andiamo a vedere bene quello che è successo per quanto riguarda le principali piazze, quindi settimana chiude quindi in territorio positivo, mentre appunto come ho detto prima solo in controtendenza Piazza Affari che teme a meno 0,35 per ritorno all'incertezza politica. DAX che chiude a più 0,85%, quindi alla fine raggiunge la migliore performance della settimana, diciamo dell'ultima giornata della settimana, seguita poi da Parigi che chiude a più 0,56%. Più distanziali invece restano Londra a più 0,32% e Madrid a più 0,21%. Ritornando alla situazione politica italiana, per quanto riguarda appunto Luigi Di Maio prova a dettare l'ultimatum agli alleati, DEM o si attua secondo le sue parole il programma indicato da Pentastellati o si va al voto. Una scelta enfatizzata dalla richiesta dal PD di allinearsi alla volontà revoca della concessione ad Autostrade per Italia. Avevamo pronto il decreto, queste sono le parole di, ha ricordato il leader, il pentastellato, al termine delle consultazioni per il presidente incaricato Giuseppe Conte, va fatto il prima possibile. Il Movimento 5 Stelle ha alzato la posta e dettato un ultimatum, quindi nella trattativa per poter arrivare a un programma comune sul quale appunto costruire una nuova maggioranza parlamentare e scongiurare le elezioni anticipate in autunno. Dopo appunto la crisi che è stata innescata con il divorzio da Matteo Salvini, precisamente proprio durante le ferie a metà agosto. Il Partito Democratico, il capogruppo alla Camera, Graziano Del Rio, aveva aperto una riforma alle concessioni a partire dall'attuazione del nuovo sistema tariffario deciso a giugno dall'autorità per i trasporti. A quanto pare non è stato abbastanza, o almeno non sufficiente a Di Maio, è sempre più isolato anche dentro il proprio partito con la formalizzazione della leadership di Conte. Di Maio continua infatti a ricordare al Partito Democratico di Nicola Zingaretti di ritenere Conte un Premier terzo, posizione che continua a non convincere di Dem e non solo. Il Premier è stato indicato dal Movimento 5 Stelle, quindi è ritenuto uno di loro. Su questo schema si dovrebbe pertanto basare la ripartizione degli incarichi all'interno dell'esecutivo. L'ex Vice Premier ha quindi stilato un programma di 20 punti consegnati al Premier incaricato, dettando una sorta di ultimatum al PD, niente patrimoniale, stop a tripellazione dagli inceneritori, revoca della concessione ad ASPI, una riforma del sistema bancario, separando le banche di investimento da quelle commerciali. Ma anche nessuna marcia indietro sui decreti di sicurezza, per i quali il PD intende intervenire almeno sulla base delle indicazioni date dal Capo dello Stato. Doni giudicati, appunto, inaccettabili, effettivamente, dal che appunto ha commentato proprio il primo adesso a commentare è stato Del Rio. Per alcuni, quindi, l'atteggiamento di Maio è stato incomprensibile e quindi si torna indietro, quindi nei nostri confronti. Penso che Di Maio non abbia letto quanto più concordato sulle linee programmatiche. Poi ci sono stati diversi interventi di Maria Elena Bosch, esponente di spicco del giglio magico renziano, l'ala del PD che prima aperto all'alleanza con i pentastellati, noi vogliamo evitare recessione e aumento IVA. Ma proprio per questo gli ultimatum e le minacce di Maio sono irricevibili. A stavolta la delegazione del PD, anche alla luce dei dati instant sulla crescita zero nel secondo trimestre, ha chiesto una svolta. Abbiamo indicato al Presidente e incaricato le nostre priorità, il taglio delle tasse per i salari medio-bassi come incentivo alla ripresa. In secondo luogo, il tema del lavoro, un piano per l'occupazione, ha detto poi il segretario Zingaretti. Sullo sfondo resta il tema delle poltrone del Totonomio. Ha detto di molti che il timore del capo politico grillino è di vedere il proprio ruolo ridimensionato rispetto a quello dello stesso Conte, figura sulla quale i pentastellati si sono comunque impuntati per averlo ancora alla Presidenza del Consiglio. Il nodo quindi però da sciogliere resta soprattutto uno, una poltrona importante, quello della Vicepresidenza, che i 5 Stelle continuano a rivendicare per Di Maio. Però trovando soprattutto un muro per i democratici, per i quali il Vicepremier dovrà, secondo loro, essere uno di loro. Bene, poi vedremo cosa succede durante questo fine settimana e poi anche la prossima settimana. Per quanto riguarda appunto la situazione invece legata a Piazza Affari, Piazza Affari quindi che comunque nonostante una seduta, un finale del mese di agosto in frenata, si consola con un bilancio più che positivo. Infatti raggiunge oltre il più 7% nella seconda metà del mese che ha visto il listino milanese segnalarsi come il migliore tra le maggiori borse mondiali. Oggi a sbozzare gli entusiasmi sono state le due parole di Di Maio che hanno in parte gli accesi timori di uno scenario di elezioni anticipate che comunque appare al momento un'opzione poco probabile. Bene, quindi poi andiamo a vedere invece quello che è per quanto riguarda le news che sono state rilasciate nell'ultimo giornale del mese di agosto, quindi dal fronte macroeconomico, da segnalare le inflazioni dell'area euro che ad agosto, secondo la lettura preliminare, è cresciuta dell'1% a livello annuale, in linea con il dato del mese precedente e con il consenso degli economisti contattati dal Wall Street Journal. Mentre invece per quanto riguarda la situazione americana, le spese personali per consumo sono salite allo 0,6% a livello mensile nel mese di luglio, sorprendendo positivamente il consenso degli economisti contattati dal Wall Street Journal, che si aspettava un aumento dello 0,5%. Il defrattore dei consumi, ovvero l'indice prezzi delle spese a consumi personali, è salito dello 0,2% su base mensile e è aumentato dell'1,4% su base annuale. La componente core, sempre a luglio, è invece aumentata dello 0,2% su base mensile dell'1,6% su base annuale. Inoltre i redditi personali hanno registrato un incremento dello 0,1% mensile lo scorso mese, infine le spese personali per consumi di giugno sono state confermate più 0,3%. Bene, ora andiamo a vedere il calendario, magari l'economico già filtrato, settimana prima, settimana di settembre, al 2,6 settembre, si parte con l'unica di 2 settembre dove c'è FSA, sia negli strumenti del Canada, mentre si parte alle 9.55 con l'Eurozona, abbiamo l'indice dei direttori degli acquisti del settore manufatturiero, alle 10, indice PMI manufatturiero di agosto, poi si passa alla Gran Bretagna, alle 10.30 l'indice dei direttori di acquisti del settore manufatturiero di agosto. Arriviamo a martedì 3 settembre, alle 3.30 dall'Australia le vendite al dettaglio di luglio, poi alle 6.30 sempre dall'Australia, è la volta della Banca Centrale Australiana sui tassi, sulle decisioni, sui tassi di interesse. Alle 10.30 invece dalla Gran Bretagna, l'indice dei direttori di acquisti del settore delle costruzioni di agosto, ed alle 16 dagli Stati Uniti l'indice ISM dei direttori degli acquisti del settore manufatturiero. Bene, quindi già abbiamo il calendario macroeconomico delle prime due giornate, passiamo a mercoledì 4 settembre, alle 3.30 è sempre protagonista l'Australia con il PIL, il PIL sia del secondo trimestre che quello annuale, poi si passa alle ore 10 dalla zona Euro, l'indice dei direttori di acquisti del settore dei servizi di agosto, mezz'ora dopo, dalla Gran Bretagna, ovvero alle 10.30 abbiamo due dati, indice PMI composito e l'indice dei direttori di acquisti del settore dei servizi. Alle 11 invece dalla zona Euro, le vendite al dettaglio, e poi alle ore 16 abbiamo, questa volta ci sarà la Banca Centrale Canadese sui tassi di interesse. Passiamo a giovedì 5 settembre, alle 14.15 con la variazione dell'occupazione agricola ADP di agosto dato anticipatore in Onfamperol, alle 14.30 richieste iniziali di sussidia la disoccupazione, poi abbiamo l'indice ISM non manufatturiero di agosto e alle 16.30 poi chiude la giornata le scorte di petrolio. Bene, passiamo all'ultima giornata, venerdì 6 settembre, alle ore 8, produzione industriale tedesca di luglio, alle ore 11, sempre dalla zona Euro, il PIL del secondo trimestre annuale, alle 14.30 in Onfamperol, sempre lo stesso orario, tasso di disoccupazione di agosto, alle 14.30 dal Canada la variazione del livello di occupazione di agosto e alle 16.00 indice IVEI dei direttori degli acquisti. Bene, questo è il calendario magari economico, quindi con i vari notizie, le varie notizie più importanti già che abbiamo filtrato, gioco filtrato. Bene, detto questo passiamo adesso alla seconda parte, però prima di passare alla seconda parte vedremo, vediamo un poco, vediamo di abbiamo per chi non è ancora fa parte, non fa parte nel nostro, nel nostro, diciamo, nel nostro due informazioni di punta, nei nostri due servizi di punta, potete andare in analisi, diretta live o chat e telegram chat, quindi potete iscrivervi a tutte e due perché poi alla fine fondamentalmente fa parte di un stesso contenitore. Allora, diretta live, andate su diretta live, diretta live giornaliera tenuta direttamente da me, sono il direttore analista finanziario della sede in Italia e si tiene dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e poi dalle 15 alle 15.30. 8.30 a 9.30 quindi praticamente ci sarà un'analisi dedicata fondamentalmente a tutta la parte sui fondamentali, analisi macroeconomica, quindi tutta una serie di indicazioni inerenti a quello che può succedere nel corso della giornata e poi abbiamo una situazione dove in pratica ci sono tutte le varie informazioni e poi si passa quindi allo studio di pannelli di controllo della MQL Suite per poter andare ad identificare le forze più importanti già in pre-aperture, in pre-market del mercato europeo, delle piazze finanze europee, poi si passa all'analisi degli scenari più importanti, in un watching list degli scenari più importanti. Mentre invece durante l'appuntamento quotidiano dalle 15 alle 15.30, apertura, ovviamente si attende l'apertura quindi di Wall Street, si commentano se ci sono delle operazioni anche in campo azionario, quindi analisi sugli indici e poi si passa quindi all'analisi anche del comparto valutario, nonché anche tutta la sfera operativa che già è stata individuata di vari scenari più importanti durante la mattina. Bene, quindi poi oltre a questo potete anche iscrivervi alla chat telegram, qua potete, quindi vedete qua trovate nome, cognome e mail, quindi a cura di analisti di teletrade, professionisti dipendenti, dove trovate tutta una serie di informazioni importanti, le varie consigli operativi e adesso vi faccio vedere proprio il funzionamento della chat telegram, quindi praticamente vedete qua abbiamo, queste sono le ultime operazioni chiuse, 45, 50, 70 punti su un euro card proprio ieri sera, poi abbiamo tutta una serie di queste euro sterline, quindi l'analisi anche dal punto di vista grafico, abbiamo quindi altre operazioni che sono state chiuse proprio ieri, vedete US crude, gran bella operazione, poi ci sono tutte le varie analisi, tutti i vari spunti operativi e oltre a questo però la mattina si parte già con delle informazioni, breaking news, dove c'è la guida ai principali eventi della giornata odierno, quindi oltre al calendario macroeconomico si va un po' ad analizzare anche la situazione sui fondamentali. Poi abbiamo il calendario macroeconomico tutte le mattine, poi ci sono l'analisi dei nostri tre pannelli di controllo, la EMA dashboard, net change e best and worst, poi qua ci sono tutta una serie di informazioni, video, gli studi di Elliot, eccoli qua, altre indicazioni, vedete altri video su singoli setup importanti come in questo caso c'è l'analisi di DAX e altri studi di Elliot, infatti è una rubrica, una chat molto piena di informazioni, in modo tale che per chi non può seguire direttamente la diretta live mattutina, però potrà anche, diciamo c'è la possibilità di seguire anche dagli smartphone, potrebbe quindi stare al passo di tutti e anche utilizzando solo e esclusivamente la chat telegram, quindi abbiamo tutte le varie informazioni, le varie notizie che arrivano più importanti, insomma tutta una serie di informazioni interessanti. Bene, detto questo quindi passiamo adesso alla seconda parte, andiamo a vedere un po' come è chiuso dal punto di vista operativo il mese di agosto, il diario di trading, per quanto riguarda il valutario e le commodity, sono state 94 operazioni a 1308 punti, quindi ancora diverse operazioni aperte, che poi le operazioni aperte verranno riportate per il mese di settembre. Bene, mentre invece per quanto riguarda gli indici, 156 punti e aperto sono, abbiamo il DAX, operazioni di lungo termine, con un buy stop che partiva proprio di venerdì ieri, 11870,50 entry point, 11720, quindi 150 punti di stop loss e 549, quasi 550 punti di target a 12420. Mentre invece per quanto riguarda la situazione del Dow Jones abbiamo un'altra operazione aperta, la 288, 26332 ingresso direttamente al mercato, 26050, 282 punti di stop loss, con due target, primo target 26680, 348 punti, secondo target a 26945, 613 punti. Poi abbiamo un pending, in gang per quanto riguarda il Dow Jones, 7780, sempre buy stop, 7640, 140 punti, primo target 7850, 70 punti, secondo target 8025, 245 punti. Per quanto riguarda le azionali invece restano in campo Amazon con due operazioni, la 07 e la 08 buy, più un buy stop un po' più sopra, posizionata un po' più sopra, che resta a mercato. In questo momento abbiamo 215 punti di attivo. Chiudiamo il mese. Bene, detto questo, passiamo alla seconda parte, quindi l'analisi dei pannelli di controllo, questa volta partiamo anche dal mensile. Bene, mensile che praticamente vede come protagonista ufficiale lo Yen. Yen che chiude a doppia cifra, a 17,40, quindi alla fine del mese di agosto è stato per lo Yen un mese all'insegna della valuta rifugio fondamentalmente, mentre invece nelle retrovie e peggiore performance abbiamo il dollaro australiano, il dollaro della Nuova Zelanda, che soprattutto il dollaro quello della Nuova Zelanda, che chiude a meno 20,06%, l'australiano meno 8,56%. Secondo posto come valuta positiva è la stellina, nonostante alti e bassi, però chiude a 4,39. Per quanto riguarda invece la settimana appena conclusa abbiamo il dollaro americano, quindi 6,39, seguito da un dollaro australiano dove qua hanno avuto alcune notizie macroeconomiche, mentre invece la peggiore performance è stata raggiunta dall'euro meno 4,37. Soprattutto ieri ha spinto molto, diciamo, perso parecchio. Sul giornaliero è infatti ieri, vedete, euro meno 3,96. Una grossa differenza tra il penultimo che è la stellina a meno 0,51%. Lo Yen ieri invece continua ad essere positivo a più 1,79%. Per quanto riguarda invece la situazione legata alle commodity, allora queste sono in mensile, oro più 7,68, quindi continua ad avere anch'essa come bene rifugio. Seguite invece con la migliore performance esternina d'oro e nuova a Zelandia, in questo caso come coppia come cross a 4,06. Mentre la peggiore performance di un Zelandia che chiude a meno 6,02. US Crude, l'altro commodity, invece Oil, chiude il mese di agosto a meno 4,98. Mentre invece, per quanto riguarda gli indici, gli indici abbiamo un'annetta sbilanciamento. Il mese, diciamo, si chiude ancora il negativo, vedete, Down Jones meno 1,64, SP meno 1,71, Nasdaq meno 2,05, i DAX meno 1,51, però questa settimana c'è stato un vero e proprio capovolgimento di fronte, cioè hanno iniziato ad essere tutti in ambiente positivo. Infatti abbiamo CAC 3,95, DAX 3,66, Down Jones 2,93, UK 2,89, SP 500 2,53, il Nasdaq 2,47. Stessa situazione che la possiamo vedere proprio ieri. Ieri abbiamo i DAX a 0,86, CAC 0,84, UK a meno 0,65, il Down Jones a più 0,11, quindi tutte movimentazioni positive. Bene, quindi questo è il calendario macroeconomico. Ovviamente dovremo andare a vedere il prossimo mese. Il prossimo mese molto probabilmente potrebbe continuare, vedete, lo Yen ad essere, ad svolgere la sua funzione di valuta rifugio con una stellina che dobbiamo vedere un po' i movimenti perché potrebbe subire qualche movimentazione a ribasso. A momento invece molto deboli ci saranno ancora, partiranno ancora in debolezza il dollaro australiano e il dollaro della nuova zero. Molto probabilmente questo meno 1,47 dell'euro potrebbe diventare più importante e più pesante in virtù anche della rottura di 1,11, della definitiva rottura di quel valore, di quel livello psicologico, la zona psicologica dove in questo momento infatti il prezzo si è portato da 1,09,87. Quindi praticamente siamo molto distanti da 1,11, si è lasciato alle spalle questo 1,11. Bene, andiamo adesso alla net change, l'altro pannello di controllo dove vedete si evidenzia una situazione per euro-dollaro in difficoltà tutto negativo. A seguire abbiamo un yen, a seguire abbiamo invece, molto interessante, e seguire invece il comparto legato agli indici, vedete abbiamo quasi tutte buone movimentazioni positive, oro che resta imprigionato dal di sotto il massimo di periodo, e poi abbiamo altre indicazioni in particolare per quanto riguarda attenzione alla sterlina dollaro, il cable che potrebbe andare giù, euro sterlina altrettanto, poi abbiamo sterlina dollaro australiano e sterlina dollaro nuova a Zerlanda che potrebbe subire qualche movimentazione al ribasso, poi le altre poi vedremo nel corso della settimana che cosa succede, cioè i primi movimenti del prossimo mese. Passiamo alla EMA dashboard, bene, l'EMA dashboard è lo studio delle medie, euro-dollaro, confluenze negative, quindi sta ad identificare una movimentazione tutta negativa, eccolo qua, vedete, selena dollaro, eccolo qua il cable, già tutto negativo, poi abbiamo in particolare abbiamo anche euro sterlina interessante per operazioni di vendita, selena yen, ancora confluenza negativa, euro-audi potrebbe continuare ad andare verso il basso, altrettanto anche per euro-card, e poi abbiamo anche euro-franco, altrettanto per il basso, poi abbiamo US crude, eccolo qua, US crude che continua a muoversi, a girare sel, le medie sono tutte quante, danno indicazioni di bassiste, oro invece, vedete, sembra che c'è una maggiore preponderanza per un sel, poi abbiamo sterlina dollaro australiano, sterlina dollaro nuova zelanda, osservati speciali per l'opportunità di vendita, e poi abbiamo il comparto degli indici, anche qua, dove abbiamo buona parte, sono tutti quanti indicazioni verte. Bene, questa è una situazione anche per quanto riguarda la EMA dashboard, e adesso passiamo alla terza parte, dove andremo ad analizzare, sapete che nel fine settimana andremo ad analizzare soprattutto la EMA, le due commodi, oro e US crude, e poi i tre indici, i più importanti, ovvero DAX, NASDAQ e Dow Jones. Euro-dollaro, partiamo dal settimanale, il settimanale con questa decisa movimentazione ribassista che ha caratterizzato proprio ieri, si è portato al di sotto di questo famoso 1,11, il che poi ha chiuso anche al di sotto uno dei miei livelli annuali, uno dei 10,20, il che se continua così, ci potrebbe essere un piccolo pullback durante la prossima settimana, e se continua ad indebolirsi di più l'euro, la situazione potrebbe essere molto importante, per poter quindi iniziare ad evidenziare una continuazione del movimento, quindi continuazione del movimento ribassista, e che potrebbe andare a toccare ed a chiudere definiamente il gap ancora aperto, dalle elezioni di Macron. Prossimi target sono 1,08,988, su questa base, poi abbiamo 1,0703, e poi abbiamo 1,05 e 45, eccola qua, questa è un'altra base. quindi, da questa zona, questo è l'apice, vedete, diciamo che potrebbe essere una movimentazione circolata, e che potrebbe chiudere proprio da dove è partita, zona di demand molto importante, tra, precisamente, tra una zona tra 1,04 e 30 e 1,03 e 20, se continua questo movimento, quindi per me la view continua ad essere il bassista. andiamo sul giornaliero, eccolo qua, il giornaliero è rotto il triangolo, vedete, il triangolo di compressione, è stato rotto, si è portato sotto 1,10 e 20, e da qua potrebbero partire altre movimentazioni di ribassista. eccoci qua, andiamo sul settimanale, settimanale abbiamo questo pattern armonico, è una bullish total, che potrebbe far pensare ad una possibilità, ancora realzista, però, diciamo che andremo a vedere, poi, nel corso della settimana, i primi movimenti. però, anche qua, allargo un po' più il grafico, vediamo che qua, si è chiuso, abbiamo chi fa anche cicli, si è chiuso, è andato a prendersi, a 104,63, vedete, è andato, abbiamo un ciclo, un altro ciclo, e questo contempla tutte e due, vedete, dove era presente la metà del mese di marzo 2018, è andato qui, è andato allo stesso prezzo, quindi, praticamente, da qua potrebbe partire, se mantiene questa base, questa zona, potrebbe partire una zona di domanda, potrebbe partire una movimentazione realzista e importante, quindi, nel lungo termine potrebbe essere long, vedete, già ha rotto il 105,760, e quindi, e quindi potrebbe essere interessante da seguire nei prossimi mesi, però porti a long, ovviamente, qua, che cosa è successo nell'ultima parte? l'ultima parte, vedete, abbiamo una shadow, un'altra shadow, un'altra shadow, un'altra shadow, e un'altra shadow, qua fa pensare, quindi, in quest'area, che il, le, i prezzi, hanno incontrato una forte zona di supply, che sarebbe questa, se viene superata, allora, praticamente, potremmo assistere ad una continuazione del movimento realzista, però, staremo a vedere ai prossimi movimenti. Giornaliero, passiamo al grafico, il giornaliero, grafico che, a momento, è stato invalidato, questa ulteriore bullish total in daily, il prezzo è andato a fare un altro minimo, qua giù, esattamente, il 26 agosto, e poi, piano piano, vedete, qua è incontrato un 16 e 751, quindi, anche qua, si sta formando, una sorta di testa e spalla, se andiamo, allargiamo un po' più grafico, vedete, questa potrebbe essere, la prima spalla, questa è la testa, e poi, ancora manca, la seconda, seconda spalla, questa potrebbe essere una neckline, se chiude, quindi, ci potrebbe stare, una, ulteriore movimentazione, però, diciamo che, a momento, mentre invece, la view, in ottica H4, vedete, come è andata a testare, questo livello, e da qua, quindi, proprio, nella giornata, vedete, alle ultima candidata, delle ore 20, da qua, è iniziato questo movimento, quindi, movimento che potrebbe continuare, più in basso, quindi, ci potrebbe stare, un movimento, a ribasso, poi, vediamo, però, purtroppo, sul settimanale, anche se abbiamo questa indicazione, realzista, però, dobbiamo aspettare, aspettiamo un attimo, quello che succede, nell'arco, della settimana, serena dollaro, serena dollaro, fondamentalmente, abbiamo una situazione, in ottica settimanale, ancora, per me, ancora di bassista, nonostante che, anche qua, abbiamo, un pattern armonico, abbiamo, una bullish bat, fly, vedete, che, anche qua, è andata a prendersi, esattamente, l'area, di demand, che è stata, toccata, testata, esattamente, il 25 settembre, 2016, nella settimana, dell'inizio, del mese, di gennaio, 2017, e poi, anche, esattamente, nel mese di marzo, i giorni, del mese di marzo, del 2017, poi, e ritornai, nuovo qui, e da qua, ha fatto, le ultime, penultime, due settimane, le settimane centrali, del mese di agosto, positive, poi, adesso, ha girato, questa, fondamentalmente, potrebbe essere, una sorta di correzione, vedete, c'è la correzione, dove, proprio, si è appoggiato, su 50, 61, 8, però, per me, ha ancora, una view ribassista, anche perché, sta sotto, 1,22, non è riuscito, a rompere, questa zona, più volte, testata, vedete, ha fatto, un pullback, poi è sceso, ha fatto, una fine di salire, e poi ritorna da giù, e che potrebbe, ritornare, un'altra volta, più in basso, quindi, la view, rimane, prettamente, ribassista, per quanto riguarda, invece, appunto, il giornaliero, e il giornaliero, eccolo qua, vabbè, questo è il giornaliero, quindi, ancora bearish, su H4, vedete, come è a chiuso, abbiamo un livello di prezzo, abbiamo una bearish a crab, si è messo sotto, ha rotto, questa, trend line, potrebbe andare a fare, un pullback, su questa zona, per poi, ritornare, un'altra volta semi, usd, usd franco, usd franco, long, situazione rialzista, in questo momento, vedete, quindi, euro, dollaro, sell, questo su, se supera, questo 0,99, 0,56, potrebbero stare, altre, movimentazioni, al rialzo, seppure, in ottica, giornaliera, abbiamo, la presenza, di questa bullish dragon, però, potrebbe anche, annullarsi, bisogna vedere, cosa succede, a 0,99, 0,56, andiamo a vedere, audio sd, audio sd, andiamo a vedere, un po', su audio sd, fondamentalmente, la view rimane, sempre ribassista, eccola qua, non ci sono, segnali, di, ripresa, vedete, anche se, qua abbiamo, due shadow, qua sotto, quindi qua, il prezzo ha trovato, difficoltà, a rompersi, a portarsi sopra, queste zone, al di sotto, ancora di più in basso, però, al momento, per me, è ancora, vedete, qua ha rotto il triangolo, si è portato sotto, 0,67, 518, quindi la view, è ancora, ribassista, poi, andiamo, su, usd cad, per quanto riguarda, la situazione legata, usd cad, ecco qua, qua, avevamo individuato, la scorsa settimana, la rottura di una trend line, rottura, pullback, ripresa, poi, ripresa, 1,33261, siamo sell a mercato, e, e qui, fondamentalmente, ha trovato, difficoltà a superare, questo 1,33261, da qua, potrebbe, ha fatto un altro, pullback, potrebbe, ripartire un sell, cioè, è andato a prendersi, un po' la parte, tra il 50 e il 75%, di questa pin, giornalino, qua si vede molto bene, il movimento, vedete come, qui, i prezzi sono fermati, un po' di caos, qua dentro, fondamentalmente, vedete, da qua, potrebbe partire, il sell, H4, anche qua, si vede, diciamo, un po', c'è un po' di confusione, però qua, già c'è la presenza, una W, quindi un pattern armonico, che potrebbe, andare, a spingere, i prezzi, al ribasso, New Zealand Dollaro, New Zealand Dollaro, settimanale, resta sempre, sotto pressione, le guadazioni, potrebbero andare, a prendere, questa zona, di demand, quindi un po' più in basso, appunto, è posizionato, il secondo target, dell'operazione sell, ancora a mercato, dove siamo, oltre 100 punti, su, giornaliero, adesso, si è formato, una pin, proprio nell'ultima parte, un falso rottura, un falso breakout, il che, bisogna fare attenzione, perché, c'è la possibilità, di una risalita, a meno, dalle indicazioni, quindi, molto probabilmente, andrò a chiudere, l'operazione di prima, vediamo un po', come aprono i mercati, poi, passiamo adesso, ad, analizzare, la situazione, delle commodite, partendo dall'oro, oro, settimanale, abbiamo, questa, movimento, questo deciso, movimento, ribassista, quindi, abbiamo un altro massimo, da qua, potrebbe partire, un sell, però, potrebbe, anche essere, l'ultimo movimento, l'ultima fase, di correzione, per poi, tirare su, per, per long, sapete che, in periodi di crisi, in fasi, congiunturali, negative, l'oro, è il bene rifugio, quindi, potrebbe, naturalmente, andare su, sul giornaliero, non è riuscito, a rompere, 1548, 27, quindi, potrebbe, iniziare, ad, ad avere, un movimento, ribassista, in questo caso, cioè, potrebbe andare, vedete, l'ultima, l'ultima parte, dove, si è fermato, come ho detto prima, potrebbe essere, quello qua, 50, 60, per poi, risalire su, come è successo, qua, fondamentalmente, 4 ore, si vede molto bene, il movimento, eccolo qua, vedete, mettiamo solo, qua, ci sono, pure i livelli, di prezzo, eccolo qua, 50, 60, e si è appoggiato, sul pv, da qua, potrebbe partire, il logo, vediamo, quello che succede, US crude, US crude, abbiamo preso, un bel po' di profitto, quasi, penso, un 300 punti, perché avevamo diverse operazioni, al mercato, ed eccolo qua, vedete, US crude, praticamente, 61,8, quindi, abbiamo, questo movimento, ultimo punto di swing, 1, 2, 61,8, e quello là da giù, ora, quasi, si è formato, una zona, vedete, una zona di blocco, livello di prezzo, punto di, questo bullish total, e, da qua, quindi, potrebbe partire, una movimentazione, al rialzo, quindi, staremo a vedere, quello che succede, qua, siamo proprio in ottica, H1, quindi, però, ci potrebbe stare, potrebbe starci, un movimento al rialzo, beh, passiamo, al DAX, DAX, molto bello, come struttura, perché, perché, praticamente, mi metto, direttamente, su quattro ore, abbiamo un testo e spalla, e già sta dando, i suoi frutti, 1, 2, e 3, pin, qua, ci siamo messi long, rottura della neckline, e via su, e già siamo sui 90 punti di profitto, il target, è questo, adesso vi spiego anche perché, oltre, alla, eh, oltre alla testa e spalla, andando ad applicare anche, le dinamiche di Elliot, abbiamo, da qua, essendo un minimo importante, possiamo andare a calcolare, la prima onda, la seconda onda, coincide proprio con il 61,8, 11486, 60, calcolato dal, minimo, fino a qua, eccolo qua, quindi, coincide con, le dinamiche di Elliot, e da qua, inizia la terza onda, la terza onda che, andando a costruire con le estensioni, 1, da qui, qua, e qui, il 161,8, coincide proprio, al di sopra, con questo livello, a 12433,20, ora, oltre a questo, se andiamo a traslare, quindi andiamo a calcolare, il, il time, il, andiamo a calcolare, il target teorico, no, del testo e spalla, vedete, andiamo a traslare, la distanza, tra la neckline, e la parte finale, della testa, da dove è partito, il movimento, coincide quasi, vedete, quindi abbiamo, diverse indicazioni, che molto probabilmente, ovviamente, entro, un bel po' di giorni, potremmo arrivare, il prezzo potrebbe arrivare, a 12433,20, quindi, oltre 600 punti di profitto, e che però, potrebbe anche, continuare, a salire, se rompe questa zona, potrebbe andarsi a prendere, questa zona di massimo, ovviamente, entro il mese prossimo, anzi, questo è il mese di ottobre, potrebbe arrivare qua, a 12.600, potrebbe chiudere, questa zona, vedete, dove, e poi, vedremo un po' quello che succede, quindi, resto long, su DAX, NASDAQ, anche su NASDAQ, c'è un ottimo, spunto di ingresso al mercato, il giornaliero, vedete, è quasi formato, un triangolo, da qua, potrebbe partire un long, H4, eccolo qua, vedete, è quasi appoggiato, su questa trend line, eccolo qui, questo è un altro livello, importante, allora, l'autore di questo livello, potrebbe, partire, un long, fondamentalmente, perché, perché, già fatto, una sua struttura, all'interno, abbiamo un punto 1, impulso, correzione test 50, questa volta, e il punto 2, sempre applicando Elliot, potrebbe raggiungere questa zona qua, insomma, 161, questa è la zona, quindi, anche qua, per me, la view, se si libera di questa zona, potrebbe, essere interessante, da seguire, la long, per le prossime settimane, Dow Jones, Dow Jones, siamo, buy a mercato, in questo momento, abbiamo 60 punti di profitto, dove aver raggiunto ieri, una punta massima, di oltre 200 punti, e anche qua, la situazione, resta rialzista, vedete, come, si è liberato, da questa zona, di, eh, eh, una congestione, molto grande, una, zona, di oltre 900 punti, ha rotto, qua, vedete, mi sono messo subito, buy a mercato, siamo arrivati, a oltre 230 punti, guardate un po', la correzione, che l'ha fatta, ha corretto, quindi, classico pullback, e, da qua, molto probabilmente, se continuiamo così, io ho messo due target, il primo target, vedete, al di sotto, questo livello, quindi, stiamo a circa 280 punti, il secondo target, a 500 e dispari, il terzo target, potrebbe addirittura, raggiungere questa zona, poi, nel momento in cui, andremo ad analizzare, le salite, le correzioni, su ogni picco, poi ci potremo, su ogni valle, potremmo andarci a mettere, potremmo andare, come appunto, anche con i DAX, e con il NASDAQ, potremmo andare, vedete, ogni volta, che c'è un movimento, una valle, queste sono le zone, da poter accumulare, ordini long, questo, questo, ok, quindi, potrebbe anche raggiungere, questa zona, e potrebbe aiutare, una sorta di movimento ciclico, fondamentalmente, infatti, vedete, se, mi metto qui, potrebbe andare, a prendersi qua, ok, bene, per questa, settimana, è tutto, ci aggiorniamo, quindi, lunedì prossimo, primo giorno, del nuovo mese, 2 settembre, lunedì 2 settembre, alle ore, 8 e 30, con la prima diretta live, della settimana, della giornata, e del mese, bene, nel frattempo, vi auguro, un buon fine settimana, buon riposo, e a lunedì prossimo, ciao a tutti, ciao ciao,